Quattro donne, anelli di una catena ininterrotta di generazioni di cristiani che attraverso i secoli hanno diffuso l'amore infinito del Padre Celeste. In una soleggiata piazza a San Pietro, Papa Francesco ha donato alla Chiesa quattro nuove sante, donne che proseguendo la missione degli apostoli hanno testimoniato la risurrezione di Cristo, soprattutto in quegli ambienti umani dove più forte è l'oblio di Dio e lo smarrimento dell'uomo. Così ha ricordato il pontefice nell'Omelia della Messa con la canonizzazione delle Beate, Suor Giovanna Emilia di Vilneva ha consacrato la sua vita a Dio, ai poveri, ai malati, ai carcerati, agli sfruttati. Suor Maria Cristina Brando fu completamente conquistata dall'amore ardente per il Signore, dalla preghiera, dall'incontro cuore a cuore con Gesù risorto presente nell'Eucaristia ed ancora a risplendere nella santità due palestinesi. Suor Maria Buardi, che è umile e illetterata, seppe dare consigli e spiegazioni teologiche con estrema chiarezza frutto del dialogo continuo con lo Spirito Santo e si fece strumento di incontro e di comunione con il mondo musulmano, e Suor Maria Alfonsina Danil Gattas, che offre un chiaro esempio di quanto sia importante renderci gli uni responsabili degli altri, di vivere l'uno al servizio dell'altro. Rimanere in Dio e nel suo amore per annunciare con la parola e con la vita la risurrezione di Gesù, testimoniando l'unità fra di noi e la carità verso tutti. Al termine della celebrazione, prima della recita del Regina Celi, Papa Bergoglio ha chiesto a tutti sull'esempio delle nuove sante di essere segno di misericordia, di carità e di riconciliazione e di pregare per la delicata situazione in cui versa il Burundi. Ricordata anche la beatificazione ieri a Venezia del sacerdote Luigi Caburlotto, parroco, educatore e fondatore delle figlie di San Giuseppe.